Saluti miei cari, io sono Kryon del Servizio Magnetico. Questo è un messaggio su dove portare l'attenzione. E ciò che voglio presentarvi oggi riguarda il futuro. Quanti di voi sono consapevoli che le cose stanno per cambiare, che siete arrivati ad un blocco totale, come dicono, e siete arrivati a questo punto già da abbastanza tempo che siete diventati impazienti di ricominciare. Ma anche all'interno di questa impazienza di ricominciare ci saranno dei cambiamenti. A livello personale, cari miei, ci saranno cambiamenti sulle decisioni, magari, che farete adesso e che non avreste fatto prima, prima di quello che accadesse in queste ultime sei settimane. Ci saranno diverse economie coinvolte. Ci saranno decisioni lì che vi sorprenderanno per quanto velocemente ritorneranno o quanto lentamente. E su cosa fare con l'eccedenza di produzione che si sta verificando, perché quando ho bloccato un'economia c'è sempre un flusso in uscita che poi non verrà venduto. Ci saranno diversi tipi di cambiamenti che si verificheranno e che non vi aspettate. Ma il più grande è esoterico. Vi abbiamo detto qualche tempo fa di qualcosa chiamato il nuovo normale. E in questo vi abbiamo detto che tutte le cose che avete appreso riguardo a come le cose dovrebbero funzionare potrebbero benissimo essere messe in discussione. Se ci pensate, tutti voi, coloro che ascolterebbero a questa canalizzazione in particolare, avete imparato come le cose funzionano attraverso le vostre esperienze del passato. Ma l'esperienza del passato era in una vecchia energia, non è vero? E c'è chi dirà, sì, 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 ma, ma, le cose dello spirito saranno sempre le stesse. E noi vi diciamo di nuovo e di nuovo che non è così. La comunicazione tra l'essere umano e la sorgente creatrice e il suo se superiore e un angelo è temperata dalla coscienza dell'essere umano. Se la coscienza cambia, è quasi come un velo che viene sollevato o che diventa più trasparente e improvvisamente quella comunicazione tra di voi diventa più chiara. E allora avete una nuova relazione che cambia tutto quello che avete mai appreso e quello che sapevate o quello che pensavate di sapere. E vi apre una prospettiva a cose che non vi aspettate o che non pensavate potessero accadere. Io conosco tutte le domande che voi possiate porre riguardo a questo. Cosa accadrà, cosa significa, e io vi dirò che tutti questi saranno positivi, tutti, oppure no. E questo dipende dal vostro pregiudizio con il quale vi approcciate ad essi e che vive dentro di voi. La paura, l'ansia che potete avere per qualcosa di nuovo. E sarà particolarmente dura per le anime antiche. Perché le anime antiche sono gli sciamani della saggezza, sono i guaritori e i canalizzatori di domani. Parlo a coloro che sono i guaritori e i canalizzatori di oggi. Parlo a coloro che stanno ascoltando adesso. Io so chi siete, che siete stati nel profondo di questo lavoro per aiutare l'umanità da molto tempo. Parlo a coloro che si aspettano di uscire fuori e continuare nel modo in cui erano. E io vi dico che potete se lo scegliete. Ma se vi dicessi che c'è una nuova cassetta degli attrezzi disponibile per voi, e in questa cassetta di attrezzi ci sono cose che non vi aspettate, e alcune di esse potreste non volerle. Potreste essere un guaritore, abituato a fare certe cose in un certo modo e ad ottenere certi risultati, e improvvisamente tutto cambia. Abituati a fare A e ad ottenere B, e improvvisamente fate A e non ottenete B, ma C. È il momento di guardare tutte queste cose e dire, cosa mi sto perdendo? E se ci fosse un'amplificazione nell'energia esoterica che io posso riversare? Se sto dando energia a qualcuno in un certo modo, se ci fosse un modo migliore, potenziato, e se potessi dare certi tipi di energia, di amore e benevolenza anche alla mia famiglia in modo diverso, invece che ritornare al vecchio modo? E se... se... E quindi questa nuova normalità prende una piega interessante. Qualche anno fa ho dato al mio partner una breve storia, e lui l'ha raccontata sul palco per tanto tempo. Ma poi si è fermato, quindi questa storia particolare non è stata udita da tanto tempo. E adesso darò di nuovo questa storia, così capirete esattamente di cosa sto parlando. Se siete qualcuno che è stato coinvolto con l'energia e ha fatto cose per aiutare l'umanità per molto tempo, ma anche per poco tempo, questo è per voi. Perché voi siete sempre un essere umano, avete sempre dei preconcetti, avete appreso, e siete stati istruiti in una vecchia energia, e qui c'è qualcosa che non vi aspettate. Ecco la storia, ed è una storia carina. Nella nuova energia, una donna arriva a casa e improvvisamente scopre che i suoi mobili le possono parlare. Vi ho detto che sarebbe stato divertente. E quello che scopre dai suoi mobili è che essi la amano, e amano che lei ci si sieda sopra, perché è questo che fanno i mobili. Ma con il fatto che adesso i mobili sono diventati vivi e ci si può parlare, arriva anche il fatto che hanno delle scelte e scoprite che i mobili hanno deciso di spostarsi. Adesso l'ultima cosa che volete nella vostra casa è che i mobili si spostino. Intendo, dopo tutto, il mio tappeto è sempre stato lì ed è lì che deve stare. Quindi l'ultima cosa che volete è che i mobili si alzino e se ne vadano, o si riaggiustino a modo loro, in un modo che non è adatto per viverci. E quindi dite ai mobili, beh, è bello che siete vivi, ma potete per favore tornare nel posto in cui vi ho messo? E i mobili dicono, beh, scusaci se ci siamo mossi, lo so che non ti piace, ma non abbiamo potuto farne a meno, è così divertente adesso che siamo vivi. E poi diranno, bene, proveremo a non muoverci di nuovo. E tornano al loro posto. E quindi la donna esce per andare al lavoro o al negozio a prendere i bambini, e quando torna trova che di nuovo i mobili si sono spostati da soli. E la donna dirà, avevate detto che non vi sareste più mossi? E i mobili come piccoli bambini dicono, non abbiamo potuto farne a meno, era così divertente, non sapevamo quando saresti tornata. E sapete, andrà così ripetutamente. E quindi mentre la storia procede, a prescindere da quando lei esca, o quanto tempo io ci voglia, se vada solo per un'ora al negozio, quando tornerà a casa, troverà i mobili riorganizzati. E non finisce in questo modo. Mentre la storia procede, e come il mio partner ha raccontato, questo influenzerà l'essere umano in uno di due modi. E mentre vi descriverò questi due modi, vi chiederò quale dei due siete voi. Modo numero uno. Ecco una persona coinvolta nella vecchia energia, e in come le cose sono sempre state, che dice ad un amico, non crederei a quello che mi è successo qualcosa di molto strano, da strabuzzare gli occhi. I miei mobili mi parlano. E non solo, si riorganizzano da soli, e ogni volta che torno a casa, devo rispostarli. È un fardello nella mia vita, mi causa ansia. Anche quando vado al negozio, mentre scelgo le cose, mi domando cosa si sarà mosso nel frattempo. È una sfida nella mia vita, di cui non avevo bisogno. e vorrei che non fosse mai accaduto. E l'amico ascolta. Questo era il numero uno. Numero due. L'amico dice, i mobili che ho comprato, qualcosa di miracoloso, è accaduto. I miei mobili mi parlano. E non solo mi parlano, ma mi hanno detto che gli manco e che mi amano. E non solo questo, è talmente eccitante. Loro si riorganizzano da soli. Che affare? E quando torno a casa, ogni singola volta, io trovo che si sono riorganizzati. Ma a me non importa, perché è talmente emozionante parlare con queste cose. È un nuovo paradigma. Un nuovo paradigma sta accadendo nella mia casa. E per me va bene, io li risistemo e poi facciamo una buona conversazione. La mia vita è benedetta. Domanda. Quali dei due siete voi? Quali dei due siete voi? Vi dico queste cose, cari miei, per dire che le cose saranno diverse. Guaritori, canalizzatori, chiunque voi siate e in qualunque modo siate coinvolti nell'energia di questa nuova era, siete pronti per cose che non vi aspettate? Le accetterete e gioirete lungo la strada per i cambiamenti che avvengono nella vostra vita? Oppure diventerete spaventati e ansiosi? Sì, e volete tornare al modo precedente? Queste sono le cose che dovete osservare adesso, prima che avvenga il rilascio completo, che usciate e ritornate ai soliti affari, perché non sarà come è stato prima. Tornerò con qualcosa di più. E così è. con qualcosa di più. E così è. E così è. E così è. Grazie.